It's alright with me, as long as you are by my side Drug or just say nothing, I don't mind, your looks never lie Cerchi le grandi occasioni e la qualità a prezzi vantaggiosi? Da Menghi Fallimenti e Stock trovi tutto quello che ti serve a prezzi imbattibili Dai casalinghi agli articoli da regalo, dall'abbigliamento all'arredamento per la casa all'ufficio Arrediamo tutta la vostra casa, dalla cucina, camere, camerette, salotti, soggiorni e divani Con pagamenti rateali e senza interessi, con soluzioni personalizzabili e su misura Consegniamo in tutta Italia Da noi puoi trovare merce sempre nuova con occasioni imbattibili ed articoli sempre particolari Nell'evoluzione della nostra azienda abbiamo cercato di identificarci in alcuni prodotti Che sono diciamo di una certa qualità Anzi, stocchiamo solo prodotti di qualità e ci siamo identificati nel prodotto del divano Tutta è pelle e niente è pelle Parliamo di pelle di spessorata, di pelle di una certa qualità E di conseguenza quando la qualità della pelle è più alta anche la struttura del divano è più alta E per questo diciamo che abbiamo puntato su questo discorso E poi vale lo stesso discorso per le cucine anche se abbiamo dei prodotti economici Ampia scelta anche nei casalinghi e negli articoli da regalo Da Menghi Fallimenti e Stock trovi servizi di piatti, bicchieri, batterie di pentola e molto altro ancora Da noi puoi trovare casalinghi, articoli da regalo per bomboniere anche in argento E infine l'abbigliamento Le grandi firme a un prezzo che non avresti mai immaginato Hai deciso di chiudere la tua attività? Contattaci e la tua azienda verrà pagata in contatti Noi acquistiamo anche aziende di qualsiasi tipo, di qualsiasi attività Che con i tempi che corrono succede che le aziende chiudono Come è già successo fino ad adesso ci chiamano e acquistiamo di tutto Dal bar, la pizzeria, il ristorante, l'abbigliamento, i casalinghi Stocchiamo anche in grosso tutto quello che cambia sul mercato Non è che facciamo differenza di prodotti Menghi fallimenti e stock A Monte Cosa Roscalo a 200 metri uscita a superstrada Menghi fallimenti e stock Da oltre 23 anni Le grandi occasioni a prezzi imbattibili Tornate a ritrovarsi